Monza rappresenta il tempio della velocità con medie elevatissime. La monoposto viaggia con ridotto carico aerodinamico per favorire le alte andature ma penalizzando l'aderenza. Uno degli aspetti più critici è proprio il grip alla prima variante. Con una velocità di 85 km orari l'appoggio aerodinamico è ridotto, compromettendo aderenza e motricità. L'erogazione della trazione elettrica tramite MGU-K assicura un flusso di coppia progressivo a supporto della guidabilità. La propulsione elettrica migliora la prestazione di 3,5 secondi al giro e 19 km orari di velocità massima.